Occhio alle truffe, questo è il progetto messo in campo da Unicredit, Polizia di Stato, Polizia Locale e Comune, per contrastare le truffe e soprattutto ai danni delle persone anziane. Ma com'è nata quest'idea? L'idea nasce dalla volontà della banca di essere molto vicina e più vicina alle persone dei territori nei quali la banca è presente. Non soltanto in maniera tradizionale, quindi con l'attività tradizionale della banca, ma anche con attività che hanno a che fare con il quotidiano delle persone, quindi coinvolgendole direttamente su temi sensibili, come quello delle truffe agli anziani. L'appuntamento è martedì 14 nella Sala Isabella d'Est, un incontro aperto al pubblico che vede coinvolta in prima linea la questura di Mantova che vuole dare consigli pratici su come evitare di essere truffati. È una popolazione sempre in aumento e molto attivi nella società, ma proprio per questo i determinati frangenti si sentono vulnerabili e noi disorientati. Noi intendiamo con questo convegno dargli tutti i mezzi e le informazioni utili perché possano essere più sereni, tranquilli e attivi nella società. Le informazioni saranno pratiche e si svolgeranno sotto tre diversi aspetti, quello della prevenzione, quello della repressione, quello dei creati informatici. Coinvolto anche il comune di Mantova perché spesso gli anziani non denunciano una truffa subita perché si vergognano di essere stati raggirati e di esserci cascati, da cui l'appoggio che devono avere. La popolazione anziana è una fetta importante purtroppo di coloro che rimangono vittime di questo triste fenomeno ed è un fenomeno che nei confronti degli anziani è particolarmente odioso. E poi giustamente, correttamente, dobbiamo vincere la difficoltà di denunciare. È un fenomeno che noi sappiamo essere ampio ma del quale non abbiamo, facciamo fatica ad avere numeri precisi proprio perché gli anziani, per vergogna, ma anche qualche volta per difficoltà, anche negli spostamenti, non denunciano l'accaduto. E questo ovviamente li rende ancora più fragili, ancora più diffidenti. Abbiamo invece la necessità di informarli e tramite le informazioni di renderli anche più protetti ma anche più aperti nei confronti delle istituzioni. Polizia Locale Questura non sono nuove a questo tipo di incontri ma la novità di quest'anno è che la rete di collaborazione si è allargata. La grossa novità di questa collaborazione appunto con Unicredit è che ha una collaborazione iniziata negli anni scorsi tra la Polizia Locale e la Questura che ha portato dei buoni risultati e una serie di interventi fatti proprio sul territorio, nei quartieri, proprio in vicinanza con gli anziani. La grossa novità è che il privato incomincia a interessarsi e si interessa di problematiche di cui il pubblico già si era fatto carico. E questo ci apre tutta una serie di nuovi scenari in quanto permette alle forze di polizia di intervenire all'interno del sistema bancario e di rilevare nuovi fenomeni o fenomeni emergenti appunto nei confronti delle truffe. Ricordiamo quindi l'appuntamento martedì 14 maggio alle 16.30 nella Sala Isabella d'Est in via Giulio Romano 13.